L'escalation protocol è sicuramente una delle attività più difficili da fare al momento su Destiny 2. È un'attività disegnata per tre persone al massimo livello ma che necessitano sicuramente anche di un aiuto esterno visto che è attivabile all'interno di una lobby e quindi con la possibilità di trovare altra gente. In questo momento l'unico modo è forse farlo con squadre da nove persone come è successo ieri pomeriggio dove i ragazzi dei rage quittoni sono stati così gentili da invitarmi nel loro gruppo per farlo assieme. Nella descrizione vi lascio il link al loro canale Twitch, andate a lasciargli un bel follow perché se lo meritano davvero. Dunque iniziamo col dire come si fa ad essere i nove all'interno della stessa lobby. I nostri nove eroi da singoli dovranno andare tutti su Marte in pattuglia da soli e fare avanti e indietro da un avamposto ad un altro guardandosi bene in giro. Non appena si è la fortuna di trovare nella stessa lobby qualcuno della squadra ecco che loro sono i primi team leader ai quali gli altri si dovranno unire. Però non subito gli altri dovranno continuare a fare avanti e indietro e finché almeno un terzo compagno non entra. In questa fase può esserci un'alternativa e cioè quella di contattare qualcuno che è all'interno della lobby e chiedergli se gentilmente può invitare un nostro compagno e poi uscire per farci fare proprio questo esperimento. Questa è una pratica sicuramente più difficile perché naturalmente non si sa chi sia davanti però può funzionare. Ci vorrà un pochino di tempo ma una volta che almeno tre membri saranno all'interno della stessa istanza gli altri non dovranno far altro che unirsi ai tre capi squadra ed il gioco è fatto. Ora sarete in nove all'interno dello stesso server. Per portarlo a termine oltre ad avere una luce abbastanza altina direi che stare sopra il 360 è quasi d'obbligo se si vuol far danno alle ultime fasi è quella di usare un paio di escamotage. Il primo è quello di aspettare l'evento pubblico delle magliarde farlo diventare eroico sparando ai cristalli e poi dietro questa roccia sponchillare i capitani che escono che faranno cadere pesanti a non finire. Fatelo finché il tempo non scade in modo da massimizzare le pesanti che poi potete usare durante appunto l'escalation protocol. Prima di partire fate in modo di avere almeno un titano solare in squadra in modo da usare la sua abilità punto di fusione con il cazzotto e almeno un paio di stregoni se non di più con la bomba nuova. Questo perché oltre al pugno del titano per indebolire il boss avremo bisogno anche del cannone a trazione per fare più danno con le armi e le abilità da vuoto. Grazie alla sua perca intrinseca per un periodo di tempo dopo aver colpito un nemico ci permetterà di fargli circa il 50% di danni in più appunto con armi e abilità da vuoto. Ecco perché è importante avere le pesanti a vuoto lancia razzi o fucile a fusione faranno a nostro caso. Dunque questi dovrebbero essere i requisiti fondamentali per portare a termine l'escalation protocol fino all'ondata 7. Fate attenzione che dalla 6 in poi tutti i nemici richiedono luce di 400 sì 400 quindi sarà veramente veramente arduo portarlo a termine ma con le cose che vi ho spiegato dovreste riuscire a finirlo. Quello che vedete che vedrete adesso è quello della settimana scorsa perché è stato fatto qualche ora prima del reset. Nei prossimi giorni aspettatevi anche quello di questa settimana perché come tutte le attività settimanali di Destiny anche questa si resetta settimanalmente con un nuovo boss ed un nuovo loot. Io vi lascio al gameplay come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se il video vi è stato utile e se siete riusciti anche voi a finire l'escalation protocol. Alla prossima, ciao! Tutte le armi a vuoto, banzucca a vuoto, secondario a vuoto. No, no, fermi. No, no, fermi. No, no, fermi. Ah, vai, vai un attimo. Ah, vai un attimo. Chiave quella blu, no? Sì. No, quella viola. Eh, vabbè, facendo i livelli e poi diventa il video. Ragazzi, vedete, prece è una domanda. Prima cercate di fare modo che si aggraffi più nemici possibili senza uccidere i mob quando potete. Quando vedete prece, cercate di fare modo che più nemici possibili si aggraffino senza ucciderli subito. Tutto parute i primi stage. Vedete qua, dove c'è, lo sguardo, lo sguardo, qua dietro. Mi raccomando che quando gli sguardo ci saranno due, sopportutto tre, chiamate bene dove state andando a farlo. Perché dobbiamo separarci bene. Tre, tre, tre. Ah, vola, vola, c'è anche vola, però non in party. Faccio la freccia, aspettate. Ma non gli uccidete, non gli uccidete. Ragazzi, non fate R2 sulle pesanti che le pesanti si sminchiano, vanno tutte via. No, vado, vado. Fate R2 con le spade sulle pesanti, mi raccomando. Raga, parlo poco per non dar fastidio agli altri, ma adesso mi smuto. Vediamo un po', vediamo un po' se riusciamo a farlo questi ragazzi, il protocollo a livello 9. Li vedo belli preparati, chissà, chissà. Allora, ragazzi, quando capiro muore, restate, se potete. Meglio sempre restare. Va, fan c***o, l'ho perso. Un boss. Arrivo, Ibra. Arrivo. Ancora uscire, c***o. Eccolo, è uscito, dietro, dietro. Cannone a trazione. Faccire la bomba. Faccire la bomba. Faccire la bomba. Faccire la bomba. Aspetta, per un attimo. Eh, sì. Il bamborello. Punto metro. Il bamborello. Il bamborello. Il bamborello. Il bamborello. Minchia. Ma che è sta roba, raga? Mega shottato. Eh, il canone a trazione. C***o che poi non li shottiamo, tranquillo. Eh sì, no, no. Mi godo il momento, io. Mi godo il momento. Mi godo il momento. Mi godo il momento. Si ne vogliono tipo 8 di bombe 9, però si fa. Eh. Quella è tante esperituzione. Qual è il prossimo, raga? Che ti diamo. Vai, vai, vai. Dove c'è Polo? Eh, Warsat, Warsat. Ma raga, io ho rifatto le pesanti per andarmi a prendere la c***a. Bravo. C***o, no, non è... Eh... Eh... Il cotto col luogo. Eh... Dovrò avere la zona. Pensione agli esplosivi, raga, anche da qui in po' ci saranno esplosivi un po'. Eh, secondo. 4 Quarto 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 C'è un seno agli esplosivi L'arco è difficile tirarlo bene Ehi guarda Prenditi prendo C'è un seno agli esplosivi Agliardi in giro Dai, albocano Oh no, tu no, si splotta Non barla qua Ti è rimasto? Dai, manca poco il boss Ninja il reset è alle 19 Alle 19 Tra un'ora Tra un'ora Bella 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 Eccola qua Eccola qua Eccola È una attenzione Ancora Potere al titano Facciamo che il danno c'è Beh direi di sì Mi sembra che il danno ci sia Sembra anche che è andato giù abbastanza Ragazzi Se ancora non l'avete recuperato Andate appunto a prendere le pesanti Non è qui sopra Sopra il ponte Eh dai, nord Aspetto Fermi un attimo, aspettate, aspettate Ok Sopra il ponte Sopra il ponte Arrivano degli orchi Orchi qua Orchi A destra Assa si sciolgono Cavalieri sul ponte Sopra il ponte Indanguele Prova a dire vicino al protocollo Vai, vai, vai Eh, due piazza Io vado giù, vado a sinistra Io sono a destra Io vado a sinistra Vado a destra Alla sinistra Piace Sopra lì In realtà Siamo tutti Quelli Ancora Un pistallo Ok Un po' Quattro Giusto Ok Adesso dobbiamo cercare di spannare il boss Quando esce fuori Tutti con le spade sul boss Tutti insieme Ok Ok È spannato Qua è il midio Qua, qua è il midio Ok Tutti con la spada Ragazzi Tutti insieme Tutti i carri due Cioè Pensate a 3,65 Il 9 con la spada Prendete questo Come on Come on Poverino sto qua In questo tema Il gatto che crota Ok Buono Ciao Luca Bella Luca Come stai Prima cassa La prima cassa Droppa Niente Allora la prima cassa In teoria dovrebbe droppare La terza e la sesta cassa Dovrebbe droppare Quanto Un evento pubblico Quindi niente di che Quello che è interessante È il drop Della settima Però come stia Con l'evento E Aspetta un secondo Ok Cominciano ad essere rossi Eh Un caesce di tu E' il rossi Che non si sa Però si sono Sì In realtà io sono Oltre a tutte le uniche Annelli che sono rossi Guarda che sono rossi Che la stia Di tutti Allora si Questa è un'altra Che c'è C'è Regale è valiarda E quelle due valiarda A destra Se sono 4 Ci sono Nella vicina Alla La colonna Una qualcosa Allora Io vado dove ero prima Container vado anch'io Io vado Per qua Direi Se nessuno è vicino a Ibra Ibra resta Tutti solo Non c'è Asilo Ancora un cristallo Qua ragazzi Detro I cristalli ragazzi Andiamo con la spada Dei ragazzi Che sono morti sopra Io subito Io scelgo apri Sparate Il cristallo Ah mi manca ancora uno Guarda 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 Guardatevi la spada Guardatevi anche la spada Se potete Questa è più recente Questa è più tempo Allora al centro Ah Mi sono ucciso Oh la scarlata Che cool Potete riprendervi la spada Ragazzi Ah No è sparita Merda Ho perso io Orco Gli arpenzo Mica mi ha scoprato Orco Oh un altro orche Sono due orche Gabri 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 Dietro ragazzi Sui schiavi Senti Con maliarda Anche una maliarda Ok Orco Orco Anche due orche Aiaiaiaiaia Orco piccoli Sono assai Sono sempre di piccoli Eccoli i boss Stanno sponando Ecco sono sponati L'orco è morto C'è ancora l'altro Andate solo su I cavalieri Non pensate all'altro Lì qua dovrebbero Che sto No Sono morto Arriva il cosa Messo Il punto Vieno a terra Il mira è sempre Io è una trazione Uno è quasi morto Uno è morto Che manca l'altro Tira che hanno una trazione sull'altro Tutto di fusione Se ce l'abbiamo Che hanno una trazione Una trazione Ok Uno su me Uno Sì Un po' di più Bella Io pure Pure Ok Questa è un'errore 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 Ma siamo in tempo Non conviene Ma perché Com'è che funziona Ogni tanto si mischiano Questa è un'errore Con l'errore Quella è un'errore 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 Questa è un'errore Ma non ce l'avevo Ma fa un po' Sabe come ce l'avevo Ma troppo Messo Raga forse a merda di una cacca Eh quella è morto Dovrezco a restarti raga Se lo vuoi Mi ha mancato Mi ha mancato lo uo Ma è quasi morto Quasi morto A posto Ma cacca quello Ma dove li droppi sti cosi Che culo Del evento Ok guardate quello Il prossimo Cosa Eh di nuovo Sopra il ponte ragazzi Ok veloci E non c'è il timer Perché questo è il livello 6 Protocollo impegna Sembra di sì Siamo al livello 6 Regà già Livello 6 No 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 Quanti sono qua Di uno o due carrieri Eh no no Qui ci sono Oh io no io I cavalieri Sì 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 Donna quanto resiste io Eh Ok comincio a Non fargli niente Figata Porco Vai Di show Rip Uno fermo Ragazzi ho arco dietro Arco a destra Magliardo a destra Ok vabbè Ok vabbè Non ci sono Di arco di ruolo Ce l'hanno Eh esco di schiavi Attenti ragazzi Mi sono fermabile Dove sei? Eh vabbè Ah già sono a 400 qua Beh Ok vado a destra Uno sul ponte E due giù Vado io sul ponte Io vado a destra Io vado a destra Uno è morto A sinistra A giù del ponte Anzi no A sinistra Vabbè vaffanculo allora Ragazzi sono solo Ah no Ok Arrivo Merda Trae straga Ok qua siamo in tre A posto Arrivo Mike No no vado Ok ce l'hai a casa Accanto Ok Qua ragazzi Sopra il ponte Qua bisogna distingere Manca quello sopra il ponte Manca solo un cristallo Se non sbaglio Si Ok Spatto sopra il ponte Eh si Bisogna distingere il cavale Ok Ok No mi ha massacrato No mi ha massacrato Guarda cavalieri Arrivano un botto di cavalieri Dalla discesa Oh Ci mandiamo più forti Ragazzi Qua dentro Ragazzi Qua dentro Qua dentro Orchi sul ponte Oh guarda questo Oh guarda questi orchi Bloccaria la volta Ragazzi Massacrate gli orchi Bloccaria la volta Ok Boss Ok sono arrivati Io prendo la valkyrie raga Punto di fusione Ah Punto di fusione Bomba 9 Stavo con la spada Stavo con la spada Sbagliato Eh mi ha bombardato Merda No l'arco ce l'abbiamo raga L'arco ce l'abbiamo raga Bomba 9 Stavate Prende una attrazione Mi potete reanimare Arrivo Ah mi ha preso Mi ha spostato Bomba 9 Bomba 9 Bomba 9 Se ancora non l'avete sparata Mi ha sparata Già Uno è poco a game Arrivo Io ho la bomba nuova carica Arrivo Uno è morto Uno è morto L'altro quarto L'arco è morto L'arco è morto L'arco è morto L'arco è morto Direi che stavano raga Canna la relazione Quanta vita c'ha? Pochissima Oh si è spostato Oh ieri Ma pari È morto 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 Allora regà Adesso attenzione Andiamo tutti in basso Dove c'è l'ultimo evento Dove vi ho spiegato prima Ci mettiamo sopra E spariamo Prima i rurlatori Gli orco Ne lasciamo uno vivo Prima di fare Tutto quanto E solo dopo che L'ultimo orco è morto Non c'è più gente Spariamo il boss Ok Sfere non ce ne sono Una forza danno Io metto quella cura Io metto danno Ragazzi Gli orlatori con le armi normali Giusto? Sì Se ne sei bazooka da vendere Vai Altrimentino Giù Ho tutte le munizioni giù Ci sono Allora vai Allora lasciamo questo orco Prima qua sotto L'orco che abbiamo qua sotto Ok Urlatore numero uno andato Urlatore numero due In fondo a destra Sono buggati i volumi I tiri E' un casino Aaaaaa Tutti morti Ok Urlatore andato L'ultimo urlatore Madonna Ci sono le magliarde a destra Le magliarde a destra Prima le magliarde Prima le magliarde Ah Regresso In show Arrivo Vedo tirare il coso Con la protezione Una Due E c'è un orco marcio Ok Via con gli orchi Morco Ok Ok ci sei Vai 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 Orchi dietro Orchi dietro Non chiederemo come non ti va a fare Dietro Non vedete Le santi Manca Cacca un'azione Re Orche Dezate Stai prendo le santi Arrivo Capri No Non posso Non posso Non posso Quanti orchi Ok, uno è one shot Ok, non ha più lo scudo Freccia Eh, vabbè, vaffanculo ora Buone, buone, buone sfere Gli urlatori, gli urlatori Gli urlatori Vai, 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 vai Eh, niente Ragazzi, tornate nella posizione di prima Tornate nella posizione di prima Ok, un urlatore Mettete le forze Urlatore, urlatore, urlatore Mi hanno fatto le desti Mi rinnovate, grazie Anche a me, anche a me scuola Ok, adesso gli orti Ok, qua sotto ci sono gli orti Ragazzi, fammate, via Punto di fusione, cannone a trazione Sì, pronti Eh, notte là, ragazzi Sì, sì, manco negli orti Sì, sì, manco negli orti Servono le sfere Vado a prenderle Ok, punto di fusione Punto di fusione, via Bomba nuova Vai 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 Grandi Che spettacolo Bella, regà Bravi Ma quindi ce ne facciamo un altro, regà Cos'è che non mi fa prendere? Cos'è sta roba? Ah, lo shader Ancora è niente pompa No, è un shader Troppo è niente pompa In questo Il boss Troppo è niente pompa Troppo è niente pompa Mi ha dato il patto, mi ha dato Forse sì, forse Il patto è normale dalla cassa Il patto è ovvio Ti dà quello No, ragà, io ho dato le chiavi di nuovo a questo personaggio Sono ritardato Sono ritardato Eeeh, quindi... Ancora uno Io lo rifaccio se volete Anche io Figo, regà Bravi Facciamolo, sì sì Rifacciamolo E' proprio molte bombe meno in meno Molte bombe meno in meno